Eccoci, bentrovati come sempre, come consuetudine con Carlo Nesti, alla sfida del Milan mancano due giorni, si torna finalmente a giocare, ma torniamo un attimo, visto che non ci sarà Vlaovic e si parla anche di questo infortunio, ma anche delle dichiarazioni rilasciate in seno alla Serbia, io volevo sapere qual è la tua opinione rispetto a quanto ho detto Vlaovic, cioè sono meno occupato in nazionale, forse voleva dire anche ho meno responsabilità in sostanza, per cui mi sento più leggero, però qualcuno era giudicato inopportune, altri invece è in buona fede, in ogni caso suonano molto come una critica a Tiago Motta. Sì, Vlaovic in effetti assente contro il Milan, ma molto presente nelle dichiarazioni, perché sono dichiarazioni importanti, è la prima volta in questa stagione che un giocatore manifesta dei dubbi riguardanti il gioco di Motta nella Juventus, fino adesso da parte degli altri era stato silenzio e assoluto, apparentemente condivisione. Vlaovic ha detto, io nella Serbia corro di meno rispetto alla Juventus e quindi arrivo con più lucidità sotto porta e poi ha aggiunto, nella Serbia c'è una seconda punta e di conseguenza con questo compagno vicino non mi sento isolato come succede nella Juventus. Io credo che siano due valutazioni dal punto di vista tecnico da prendere in considerazione, nel senso che soprattutto la seconda riguardante l'isolamento fotografa una realtà, perché nel modulo della Juventus abbiamo con Seisavo da una parte e Illiz dall'altra molto larghi sulla fascia laterale. Il giocatore che dovrebbe sostenere Vlaovic è Kupmeiners da trequartista centrale, però per il momento non riesce a farlo ancora come si vorrebbe, anche perché, aggiungo io, nell'Atalanta non giocava in questa posizione, giocava praticamente, si direbbe, da mezzala, cioè da centrocampista puro. Detto questo è ovvio, io sono un po' all'antica, che i panni sporchi bisognerebbe lavarli in famiglia, anche se ormai tutto il privato è diventato pubblico. Quindi non so se ci sia stata una multa, un provvedimento segretamente nei riguardi di Vlaovic. Comunque, a mio giudizio, bisognerebbe fare attenzione perché poi è opinabile la sostanza del discorso, perché si potrebbe anche dire in maniera un po' severa che un giocatore che percepisce 10 milioni di ingaggio e il tetto della Juventus è 5 milioni, dovrebbe comunque mettersi a disposizione e adattarsi anche a quelli che sono gli ordini dell'allenatore, anche se magari vanno contro in parte le caratteristiche del giocatore stesso. E lì davanti ci sarà UEA, che certo non ha tanto propensione al dribbling, all'assaltare l'uomo, però è uno che comunque si dà da fare. O diventa una grande responsabilità per UEA, secondo me, in questo momento lì davanti. Sono molto curioso di vederlo in questo contesto, Carlo. Sì, ne approfitto per dire che mi piacerebbe sapere quanto Motta sia propenso a giocare con un centravanti tradizionale come Vlaovic e quanto sia propenso a giocare invece con un finto 9, perché nel Bologna con Zirk Zee sicuramente gradiva molto questo tipo di gioco e quindi nella Juventus sicuramente tenta di ripeterlo con dei giocatori che però non sono ancora addestrati totalmente per interpretare il ruolo. Lui vede soprattutto UEA perché nasce come centravanti, da giovane è ancora molto giovane, ancora più giovane emulava il padre. Quindi vede soprattutto lui in questa posizione e credo che sarà lui a giocare a Milano in quella posizione. Io sinceramente avrei preferito, ma naturalmente all'allenatore Motta, Ildis per un motivo molto semplice, perché nella Turchia ha giocato da centravanti. Ovviamente non è un centravanti, non sarebbe un centravanti di peso, sarebbe un centravanti creativo, un centravanti agile, un centravanti portato a saltare l'uomo. Nella storia del calcio quanti centravanti non hanno avuto un grande fisico e sono stati degli ottimi centravanti. Però appunto molto probabilmente toccherà direi al 99% a UEA. Per chiudere, come vedi questa sfida con Milano? Milano che comunque arriva a pieni polmoni, diciamo così, è una Juventus acciaccata con l'enfisema polmonare. Scusate il paragone. Sì, 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 certo. La Juventus ha comunque, dopo 12 giornate di campionato, una prerogativa molto importante che, nonostante l'assenza di Bremer, ha messo in piedi la difesa più forte del campionato e ha messo in piedi una imbattibilità europea che si può estendere soltanto ad altre due squadre, cioè il Paris Saint-Germain e il Bayern. Quindi questa solidità naturalmente non la possiamo trascurare. Può essere molto importante per evitare in ogni caso la sconfitta. Io credo che verrà fuori un pareggio, non lo dico in chiave salomonica, ma pensando alle forze in campo, perché in Milan, in ogni caso, con le sue traversie, del Milan secondo me è stato sottovalutato molto un fatto. Il Milan è scarso in difesa, la Juventus ne potrà approfittare, ma la manovra offensiva della Juventus non è ancora del tutto convincente, però a livello individuale ha degli ottimi giocatori a centrocampo e in attacco, soprattutto a tre quarti di campo. Quindi attenzione, perché se è vero che Fonseca giocherà, come io sempre ha auspicato per il Milan, giocherà con un centrocampista in più, Loftus-Cic, oltre a Fofanà e Reinders, sarà un Milan più equilibrato, un Milan più temibile, perché giocatori come Reinders, come Pulisic e se è in vena, lo sottolineo Leao, indubbiamente è una squadra che può creare dei problemi alla Juve. Gli auguri si fanno il giorno stesso, non si anticipano, quindi alla prossima settimana vi sveleremo una cosa. Va bene, va bene. No, dico che porti una sfortuna se è fatta in anticipo. Ah, non lo sapevo, io non sono superstizioso, quindi grazie a te. Lo dici, possiamo dirlo? Sì, certo. 50 anni di professione, la prossima settimana. Certo. Chapeau, auguri. Grazie a te. Altri 50. Altri 50. Vorrei che si dicesse che ho 50 anni di età, non è così. Ma gli mostri più o meno, molti meno rispetto. 50 più 20. Grazie Carlo. Grazie a te.